E se ti dicessi che queste sono patate arrosto? Visto che spesso ci dite che usiamo troppi ingredienti, questa volta abbiamo usato due patate. Quindi iniziamo a pelarle, conservandone le bucce. Dalla patata rossa ricaviamo un parallelepipedo che cuociamo a 100 gradi in olio evo affumicato al rosmarino con pepe e aglio fresco. Arrossiamo le bucce delle nostre patate per ricavarne un fondo bruno, infondendoli in acqua a riduzione. Lo emulsioniamo con olio al rosmarino, sale e le solite polveri magiche. Prepariamo nel mentre una tisana rilassante al rosmarino e pepe nero che decidiamo di rendere spueggiante con altra polvere magica. Con la patata gialla facciamo una purea veloce che stendiamo e facciamo al forno per renderla super mega ultra iper croccantissima. Con i ritagli cotti in olio facciamo una maionese patatosa emulsionata col suo olio di cottura e aglio confit. Ora andiamo a comporre il nostro piatto e basta. Cioè potevamo mettere semplicemente due patate al forno, invece qua ci mettiamo i fiorellini di rosmarino. Comunque erano buoni. Comunque erano buoni.